Disparazione, perché penso che guardando l'edificio parli da solo proprio. A San Ferdinando l'aria davanti al palazzo Killer dove è morta la madre di Rosa Maria dell'Olio è rimasta come quel giorno. Sono passati 15 mesi da quando Franca Barbalace andando alla posta è morta per il crollo di un balcone e ogni volta che sua figlia passa da questo insolito e immobile teatro del dramma, ancora sequestrato, la ferita si riapre. C'eravamo sentiti al telefono pochi istanti prima. Dopo circa mezz'oretta così qualcuno ha bussato alla mia porta. Elaborazione del lutto più infernale del solito, vedere una piazza transennata, calcinacci come armi che hanno strappato alla vita l'insegnante pensionata che cuciva vestitini per dei nipotini che non si è potuta godere. Che mia madre non è morta a causa di un incidente. Mia madre è morta per l'incuria e l'indifferenza. Poste italiane di cui la 72enne era cliente e dalla cui filiale era uscita quando dal cielo è piovuta la morte non ha mandato neanche un telegramma. È l'unico indagato per un uccidio colposo, per il momento, è il proprietario dell'immobile da tempo fatiscente. Della chiusura delle indagini, della pratica istruttoria. Ad oggi ancora questo non è avvenuto. Dramma familiare e imbuto della giustizia a cui questa orfana, per un crollo che si poteva evitare, reagisce così. Non è possibile che un procedimento, soprattutto così chiaro, duri così tanto tempo. Agostino Pantano per la Cineus 24